La processione del Santissimo Salvatore è senz'altro una delle manifestazioni religiose più sentite dall'intera popolazione nicosiana. La processione è preceduta da una messa nella chiesa del Santissimo Salvatore, l'antico tempio costruito nel 1204 che racchiude dentro, tra le opere d'arte, anche la celebre La Nuvola di Gesù Salvatore del Mondo, opera di Francesco Quattrocchi da gangi portata in processione. La festa dopo il restauro della chiesa del Santissimo Salvatore torna nell'antico e caratteristico quartiere e la processione prosegue lungo le vie della città. Come tradizione moltissime persone al seguito per una delle processioni più suggestive della tradizione religiosa nicosiana.